L'ufficio Bandi e Progetti fornisce tutte le informazioni relative ad agevolazioni, incentivi a livello sia locale che regionale che nazionale, quindi dai contributi locali a quelli camerali, a quelli regionali e a quelli nazionali e in più assistenza personalizzata nella profilazione sui principali portali per l'accesso alle domande di contributo e per la successiva presentazione delle domande stesse partendo dall'analisi dei requisiti di accesso fino alle procedure di rendicontazione finale delle spese per ottenere la liquidazione del contributo richiesto.